Rigenerare, innovare, promuovere talenti e nuova occupazione sono parole centrali per la crescita e lo sviluppo del territorio, assi fondamentali nelle politiche di coesione e di finanziamento dell'Unione Europea e della Regione Emilia-Romagna che veicolano importanti risorse per la città. Modena ha scelto di investire nell'ambito delle imprese culturali e creative per dare loro impulso e per valorizzare il ricco patrimonio della città. Grazie alle risorse dell'Unione Europea il Comune di Modena ha avviato la riqualificazione del comparto ex AMCM, un luogo strategico per la città, che si trasforma nel nuovo polo della creatività in cui troverà sede anche Emilia-Romagna Teatro. Il primo rilevante intervento è già sotto i nostri occhi con la riqualificazione dell'ex AMCM, un edificio del 1912 caratterizzato da ampi spazi aperti e luminosi che si affacciano su una grande piazza centrale coperta, che oggi diviene la sede del Laboratorio Aperto di Modena, un luogo di ricerca, innovazione e sperimentazione per la cultura, lo spettacolo e la creatività. Uno spazio in cui fare impresa e sviluppare nuovi prodotti, servizi e tecnologie. Un punto di incontro tra professionisti, start-up e istituzioni. Aperto ai cittadini. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Alessandro Ramos